Racing Podcast del giorno dopo per parlare del Gran Premio di Manicur per quanto riguarda le Superbike che hanno corso in contemporanea alla MotoGP, per questo motivo il Racing Podcast principale è stato quello di ieri della gara di Misan Adriatico, oggi invece parliamo a freddo di quello che è successo in Superbike che ha ripreso peraltro l'austilità dopo la pausa estiva. Ma su questo canale noi non parliamo della Superbike dai tempi della gara di Imola dove Rasgatioglu vinse due gare su tre e anche qui si ripete lo stesso copione, di fatto è un periodo dove il Turco sta più ampialino rosicchiando punti al leader del campionato Alvaro Bottice che comunque va a vincere gara 2 e si issa 51 vittoria in carriera di fatto a meno 1 da Troy Bailey al terzo posto a sud della classifica, dei migliori ducatisti di sempre. Rasgatioglu comunque si conferma un pilota molto molto in forma ed è brava ad approfittare anche di disgrazie altrui perché in gara 1 per quanto riguarda il sabato Bautista ha un problema tecnico e deve un attimo rallentare il suo passo e da ultimo deve poi rimontare in decima posizione segno che comunque la Ducati e Bautista sono un pacchetto che nettamente alla lunga è favorito ma Rasgatioglu sappiamo di essere un lottatore mai d'uomo e di conseguenza fa il bello e il cattivo tempo quando può e a Manicur va detto lo ha fatto. Una gara 1 è stata veramente in realtà viziata appunto dall'errore di Bautista col problema tecnico, Rasgatioglu però ha impresso un passo molto molto interessante peraltro in una gara che ha visto un podio molto particolare ma ovviamente ne parleremo quando vedremo la classifica finale. Se Bautista ha sbagliato in sprint race lasciando spazio a Rasgatioglu succede la stessa cosa anche nella gara sprint di domenica mattina. Bautista peraltro è colpevole in modo di vedere di questo incidente qui, Rinaldi suo compagno di squadra fino alla fine di questa stagione è davanti in lotta con Rasgatioglu. Rasgatioglu è comunque in prima posizione alla staccata dell'Adelaide, Rinaldi si scompone, Bautista sbaglia il punto di staccata, centra il suo compagno di squadra sbattendolo fuori. In modo inspiegabile, nel mio modo di vedere, Bautista non viene penalizzato e lo spagnolo salva un terzo posto che in questo caso è grasso che cola. Abbiamo visto nella gara sprint come Gareth Gerloff sia stato penalizzato per lo stesso motivo per aver buttato fuori di fatto Scott Redding, ecco non mi capacito come i commissari di corsa non abbiano penalizzato Bautista. Annetto che io sono tv della Ducati però quando un pilota sbaglia in modo pacchiano e così evidente è ovvio che la penalità ci debba essere. Bautista è stato incredibilmente graziato, una penalizzazione si sarebbe tramontata in un long lap penalty, di conseguenza Bautista forse non sarebbe neanche arrivato terzo, bensì più indietro e quindi i punti recuperati da Rasgatioglu sarebbero stati comunque un pochino di più. Fatto sta che alla fine Bautista salva il salvabile con una moto anche qui danneggiata e comunque lascia spazio a Rasgatioglu. Quindi il turco ha vinto due gare su tre con Bautista non in perfette condizioni, cosa che invece non si può dire per quanto riguarda la gara 2, una gara 2 che viene peraltro interrotta dopo una bandiera rossa con unicente che coinvolge anche una volta Scott Redding ma a questo punto ad averne la peggio è Dominica Gerter, campione del supersport in carica e uno dei migliori piloti indipendenti con la Yamaha del team GRT. Alla fine si riparte da Fermi con Bautista in prima posizione, Rasgatioglu seconda e Bautista terzo e di fatto è così che arriveranno al traguardo evidentemente i piloti per quanto riguarda il podio. In una classifica che comunque nonostante un Bautista che si è dato a mezzo servizio un po' per maniera la moto, un po' per errori suoi, alla fine vede un vantaggio comunque consistente, è vero che le classifiche di gara 2 non sono ancora ragionate per quanto riguarda gli altri piloti ma cambia poco per quello che ci interessa, sono di fatto i primissimi tre. Bautista è a 467 punti totali dopo il weekend di Manicur che è andato via via in crescendo e in seconda posizione abbiamo Toprak Rasgatioglu che comunque riduce lo svantaggio a 57 punti e ricordiamo che Amos partiva di fatto con praticamente più 70. Terzo è Jonathan Ray che sarà di fatto l'arbitro di questo campionato al netto che dovrebbe inventarsi una prestazione clamorosa come Amos gara 1, al netto però che comunque quando va tutto bene Ray fa terzo ed è giusto che sia così perché parliamo di terza forza in pista. Di conseguenza in questo weekend della Superbike suona per due volte la marcia dell'indipendenza per Rasgatioglu che comunque sta ingranando e nella seconda pari stagione è al momento l'uomo più in forma. Bautista sta gestendo, vince comunque gara 2 e suona la marcia reale ma è un Bautista che in alcune condizioni riesce ad andare molto molto bene. Vedi per esempio gara 2 di manicure in alte circostanze fa un pochino più fatica quando sbaglia, quando non ci sono le piste adatte alla Ducati che comunque sta guidando. Insomma è un mondiale non totalmente chiuso, non totalmente riaperto, rimane comunque fortemente indirizzato verso il piatto spagnolo che appunto ricordiamo ancora una volta ha totalizzato 51 vittorie in carriera per quanto riguarda la Ducati. Un podio che comunque ha del potenziale interessante per quanto riguarda il resto del weekend perché tolto appunto la gara sprint dove sono i big three come al solito sul podio c'è una piccolissima gioia per Michael Ruben Rinaldi che finisce in seconda posizione nella prima gara delle tre di manicure. Un Rinaldi peraltro sfortunatissimo perché appunto poteva addirittura vincere probabilmente la sprint race con appunto la lotta con Rasgatioglu, è stato citato da Bautista. In gara due Rinaldi ha un problema e deve comunque ritirarsi, sappiamo che Rinaldi non sarà più in Ducati ufficiale il prossimo anno e questo weekend di manicure poteva essere utile al pilota romagnolo per fare evidentemente una ottima prestazione in vista di un contratto per l'anno prossimo. Probabilmente rimarrà in Ducati, verrà switchato verosimilmente in un team clienti siccome in Superbike se verrà l'anno prossimo Nicola Buriga di cui parleremo però comunque è assolutamente una gara sfortunata, un weekend sfortunato meglio per Michael Rinaldi. Si confermano invece molto bene gli altri italiani con Andrea Locatelli che comunque è in zona punti con Costanza, sesto e quarto nelle due gare classificate qui e in top ten facile anche in gara due. Ottimo invece Danilo Petrucci con doppio quinto posto nelle gare fino a domenica mattina, settimo invece in gara due però con dei rimpianti perché poteva giocarsi addirittura la quarta posizione con Gerloff, con Axel Bassani e comunque fare evidentemente una buonissima figura anche con la Ducati del team Barney. Invece un pochino più indietro Axel Bassani invece ne abbiamo già parlato, fa una brutta gara uno, una discreta gara due con appunto una top ten facile in scioltezza, ottavo invece in gara sprint. Ha sorpreso molto Garrett Gerloff invece perché ha fatto un quarto posto clamoroso in gara uno e Garrett Gerloff indubbiamente è uno dei rider del giorno di questo weekend di Magnycourt perché una BMW rediviva la vediamo con un team clienti in realtà che ovviamente ha fatto una pole position stratosferica poi non concretizzata in gara, Gerloff ha sbagliato due partenze su tre e poi ovviamente in gara due invece ha fatto una gara un pochino più in colore. Per una BMW invece che in generale ha fatto molta ma molta fatica soprattutto con le case ufficiali, Reading cade due volte e finisce settimo in gara uno, Michael Van der Mark invece è ancora alle prese con la ripresa della condizione fisica al 100% e non ha praticamente fatto dei punti, addirittura nella gara due si li fa ma è stata una gara di fatto a eliminazione addirittura le due Honda di Havid Ziarin e Hannes Sommer sono finite ovviamente in zona punti. Per un mondiale superbike che ha cambiato il calendario vedremo una gara in più in Spagna a Heres della Frontera, Magnycourt era la quart'ultima gara del mondiale, ne mancano tre complete alla fine, Aragon, Portimao e appunto Heres si finirà a fine ottobre, prossimo appuntamento sarà ad Aragon, pista fondamentale per Bautista che potenzialmente può fare tripletta e non dico archivare la pratica mondiale già lì ma comunque ci siamo molto ma molto vicini. Se il mondiale della Superbike è praticamente indirizzato lo è anche quello della Supersport e passiamo alle categorie propedeutiche perché abbiamo due doppiette, la prima è quella di Nicola Bullega appunto fresco di promozione di Superbike, sempre con il team Aruba, Bullega evidentemente domina entrambe le gare della classe intermedia e evidentemente mette una pietra migliare sul suo primo mondiale. Appunto in 600, anche se sarebbe più corretto chiamarla Supersport Next Gen, con questa vittoria appunto Nicola Bullega arriva a 358 punti totali in classifica del campionato con due doppiette, in gara 1 invece il podio è comprato da Stefano Manzi in seconda posizione che invece dovrà evidentemente cedere in gara 2 a discapito di Valentin De Bees, pilota di casa francese del team GMT 94 che colleziona i primi due podi della carriera per quanto riguarda la classe intermedia. De Bees fa terzo in gara 1 e secondo in gara 2, migliori risultati in carriera per il pilota francese, quindi idolo di casa. È una gara, quella di Supersport 600 che è stata evidentemente una fotocopia, se non per il vincitore, Nicola Bullega prende e se ne va, è cambiato semplicemente il secondo classificato perché in una gara è stato Valentin De Bees, nel secondo caso è stato Stefano Manzi, Stefano Manzi che di fatto ha 60 punti di svantaggio rispetto a Bullega e ovviamente qui mancano tre gare alla fine, due ovviamente eventi per gara, anche qua è un mondiale parecchio indirizzato verso la Ducati e verso appunto il pilota di Montecchio Emilia, invece il mondiale più combattuto lo vediamo nella Supersport 600 perché anche qui abbiamo una doppietta, una doppietta però che qui rilancia invece le ambizioni del suddetto pilota, parliamo di Jeffrey Buis, pilota olandese che è stato già campione del mondo della categoria nell'anno 2020, è andato in Supersport 600, ha fatto molta fatica, è tornato indietro e quest'anno ha comunque collezionato tantissimi risultati di rilievo nella categoria che probabilmente più lo vede specialista, Buis vince due gare consecutive e si issa in prima posizione a 149 punti, soltanto 5 di vantaggio su José Luis Perez González che fa soltanto un podio nella gara 2, in terza posizione il leader del mondiale fino a questo momento Dirk Geiger invece colleziona dei punti bassi di classifica, complice una caduta in gara 2 e un risultato in colore invece in gara 1, abbiamo tanta roba per Jeffrey Buis per il quale suona Helt Wilhelm sul suo inno nazionale, mentre per Bulleca ovviamente ha suonato il canto degli italiani, i voti sono fatti in questo modo, in gara 1 appunto vince Jeffrey Buis davanti al nostro italiano Kevin Sabatucci che fa uno dei migliori risultati della carriera in questa categoria e terza posizione invece per Loris Veneman, pilota olandese che è mai scuola di Jeffrey Buis, primo podio in carriera per il numero 7, in seconda posizione o meglio in gara 2 abbiamo sempre Jeffrey Buis, in seconda posizione abbiamo invece Mirko Gennai che abbiamo visto comunque essere sempre dei piloti di testa e fino di fatto a Gennai, Slash Van Nucci sono ancora un pochino tutti in lotto anche se qui mancano soltanto due gare alla fine e terzo appunto Jose Luis Perez Gonzalez che era il leader della classifica insieme a Geiger e adesso Jeffrey Buis è in prima posizione ma con quattro gare dal termine, questa 600 o meglio questa 300 è ancora tutta da giocare, un mondiale veramente meraviglioso. La Superbike, categorie di contorno, tonderanno dunque nella pista di Aragon dove ci aspettano delle gare assolutamente interessanti e ovviamente anche il prossimo Racing Podcast. Il saluto da parte di Matthew Thorgard, ci vediamo a un prossimo video. Grazie a tutti.